Mi ricordo che si stava sempre sulla strada a palla, le macchine non c'erano. Ho passato una gioventù un po' tremenda, un po' per la guerra, un po' ero restato orfano, avevo la mamma che doveva andare a lavorare alle spinaci per poter andare avanti, affinché non passò la guerra, che poi gli dettero la pensione, però fino a quel tempo, a quel periodo lì, doveva fare così. E poi da lì, sono cresciuto e mi misero nei baliglia moschettieri che poi mi si levarono perché ero troppo alto nei confronti dell'arte. Era un fondo, mi tenevano un fondo e mi misero negli avanguardisti. E' il tempo che ci portavano anche in monte, alle moline a fare dei ritrovi. E poi avvenne la guerra e poi ci si tornò però come sfollati, perché su Ponti ci stava la minonna e la mia zia. e ci avevano il posto, il babbo era morto nel 40, in un incidente sul lavoro, e si tornò a San Don Monte. La mia mamma, la sorella, la mamma, San Don Monte e su Ponti. Di su Ponti perché non c'era sicurezza e infatti non c'era sicurezza se andò da Martello, su Arto, sopra la Romagna, per andare da Freghino. Da lì poi fecero il rastellamento perché tutti si riunirono e fecero baracche lì alla chiesina sopra a Ciappino. In quei piazzali, a quell'ora c'erano tutti i piazzali perché ci facevano le feste, ci facevano, però poi ci venne tutte le baracche e ci stava tutta la gente. Qui ci fu un rastellamento dei tedeschi e portarono via diverse persone che poi le portarono a Disce, che li portarono di là da Zerchia a Nozzano e da Nozzano poi li portarono su. Questo non l'ho mai saputo, solamente seppi che, lo seppi subito, si seppe subito che portarono via anche mio zio e fratello della mia mamma, che poi dopo il passaggio alla guerra l'andarono a prendere e ci mandarono a dire che era disponibile. Mi pare a Parma o a Piacenza, in quelle zone lì. E non si sa se l'ammazzarono o se lo morì da sé. Questo non si è mai saputo. Poi da lì, che portarono via lui, noi si portò, si andò da Martello. Da Martello si dormiva in fienile. La mia mamma aveva paura che ero ragazzo. E un gruppo si andò all'osta, più avanti là di dietro. Anche lì si dormiva in fienile. E avvenne il rastellamento della Romagna. E presero tutta la Romagna, vennero su, fine da Martello. e poi ritornarono giù. E giravano di sopra, in cima al monte, che di sotto là c'era la osta, questa casa dove c'era anch'io. E quando venne, dissero che c'era tedesca, tutti si scappò. Si scappò per il monte e io mi trovai solo. Conoscevo, conoscevo un po' la zona, perché si girava, entrai in un coso, in un castagno, in una sciocca, che c'era tutte le frasche intorno, c'entra dentro. E lì, finché un venne, un venne a dire, sono andati via, venite via, sono andati via, non ci sono più. E hanno fatto il rastellamento e portarono via parecchia gente, che pare che quelle lì li portarono in Germania, quei rastellamenti lì. E si aspettò che arrivasse l'Ameriani e si rientrò a casa. E venne di qua, così, tre o quattro bimotori. Girarono così, così, presso proprio la strada qui, in cima alla via, fra l'Aurelia, all'incrocio, l'Aurelia Sarsone. Lì, poi, dissero che c'erano le scuderie, lì c'erano diverse scuderie. E quella lì, prima, c'era, dissero che c'era il comando tedesco. Però questo dopo. Comunque passò questi apparecchi e eravamo sulla strada a vedere, dalla corte si venne, perché si vedeva meglio, e si vede scaricare le bombe là. E una disse, la moglie di un fascista, fascista anche lei, e disse, vengono e ammazzano tutti i bambini. E mi disse, secondo te, vengono per ammazzare bambini. Se l'avessi mai detto, mi disse, se eri maggiorenne, entro cinque minuti eri in galera a faccio questi discorsi. E sì che mi chiedai e poi si sape che il comando dei tedeschi non c'era più, arrivarono tardi a bombardare. Dopo, quando passarono gli americani, si fermarono dei comandanti lì dove era il distributore, a strada. Di dietro c'è quella palazzina bassa e si misero, erano lì. E che venivano al bar, perché il bar era aperto, di farci al distributore, c'era il distributore proprio lì. Che poi lo portarono di là dalla strada e lo fecero grande così. Però c'era il bar, alimentari, c'era tutto. E di là ci venne dei comandanti inglesi. E venivano a fare la giratina, venivano al bar e quando mi è restato impresso, accendevano la sigaretta, perché la buttavano a piedi, la accendevano e la buttavano io. E la schiacciavano. Sì, quelle lì sono cose che mi sono restate ignoranti, come l'ameriani no, ma gli inglesi l'ignoranza avevano. Da lì poi lavoro, perché io ho cominciato ad andare a lavorare nel 1945. Nel 1945 avevo 16 anni. 16 anni cominciò ad andare a lavorare a un forno, a un forno a Papiana. A Papiana ci sono stati fino all'84. E purtroppo era così. Ma il riferimento a tedeschi sono state... che io preferisco non parlare, non tanto nemmeno ora. Sì, per raccontare, però poi... perché... non le... le rivedo e non le sopporto. è brutto. Io non l'auguro a nessuno subì per astellamenti che abbiamo subito, la guerra, i bombardamenti... sono tremendi. E io dico anche che i giovani ci dovrebbero pensare. E poi diventiamo i disfermi, che ci sonoate da un nuovo prentaggio. Grazie.